Sopra di noi c'è il parco degli acquedotti, tra le vie Appia e Tuscolana. Qui, come sotto tutta Roma, corrono chilometri e chilometri di cunicoli. Questi sono tutti i sacchetti dei funghi. Qui crescevano i funghi. Cave di pozzolana, fungaglie di smesse, pozzi e catacombe sono qui sotto, abbandonate. Ma dietro questa cancellata hanno trovato di peggio. Abbiamo trovato praticamente questi 5-6 complessi di gallerie, praticamente allagati da questo substrato oleoso. Qui sopra hanno girato la grande bellezza e qui sotto un lago di olio, 200 metri quadrati alti almeno 30 centimetri, che potrebbero contenere quasi 800 metri cubi di olio di scarico e inquinare la falda acquifera. Come ci si è arrivati nessuno lo sa, la polizia sta indagando. Ci abbiamo paura un po' per tutto, per quello che respiriamo, per l'acqua, per tutto quanto. Veniamo qui, ci portiamo i figli, guarda che bello, poi fai i capolino e trovi... Siamo contornati da persone incivili. Potete immaginare in una situazione dove tutti hanno degli orti, vedete, anche lì vicino, giù sullo sfondo, se emungono acqua da questo impianto di falda, chiaramente stanno producendo ortaggi con dei veleni. Luca Mercalli